Avete il diritto di rimanere in silenzio. Lui è ancora vivo. Adesso e per sempre. Maniac Cop. Ma come si fa a uccidere un morto? Perché non volete informare la stampa? Quando sapranno la verità, nessuno avrà più fiducia in noi. Assisteremo a un bagno di sangue. Abbiamo trovato l'assassino. Ho toccato la sua mano e ho sentito il gelo della morte. Che cosa vuole? Non lo so. Teresa! Che cosa hai visto? Dimmelo. Ho visto Matt Cordell. Avrà avuto una ragione per venire qui. Ce n'è sempre una in quello che fa. Cordell si farà vivo anche con lei. Deve essere orario di visita. Il mio amico è tornato. Siamo più forti. Abbiamo un capo. Tutti i poliziotti del mondo non riusciranno a fermarlo. L'hai ucciso tu. Non provocarmi. Maniac Cop. Anche voi conoscerete il poliziotto assassino.